E così, a un certo punto, abbiamo liberato anche l'amore. Finalmente più nessuno ha repressione, ognuno fa quello che vuole. Anzi, per alcune coppie l'infedeltà è una specie di garanzia di modernità. E con questa asmania di dare ascolto ai brividini del cuore, si disfodono allegramente le coppie e gli amori nascono come funghi, in una strana euforia, di cui il fallimento sembra la normale conclusione. Ma non ci è mai venuto in mente che è proprio nella fedeltà che si potrebbe trovare una risposta diversa. Non la fedeltà alle istituzioni, neanche alle regole del buonsenso antico, ma la fedeltà a noi stessi.